Va ora in onda un mondo di auguri. In diretta su Radio Sorriso TV da lunedì al venerdì, il tuo programma di dediche e auguri con la più bella musica di Radio Sorriso. Tutta da vedere, richiedi un video e fai la tua dedica inviando un messaggio al 393 73 66 888 o chiamaci in diretta allo 0423 73 66 74. Grazie a tutti. Cara mia, cara mia, c'è qualcosa che non va, tutti i giorni porti a spasso quel regalo di papà e il tuo cane pechinese che tu adori più di me lo porti sempre a fare spese la notte dorme insieme a te. Le carezze che tu dai a quel cane maledetto che di nome fattuccai. io mi sento un po' confuso, non capisco ancora se devo mettermi a sbagliare e riconquistare te. Vorrei dormire anch'io come un cane insieme a te. Vorrei che mi trattassi come un cane pure a me Era ora, era ora, ti dedicassi un poco a me Ho comprato un bel regalo, a Tugaia e pure a te Una cena per noi due, non mi fare il muso duro Se il tuo cane è giù in cantina, sei gli odato del promuro E doggy 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 dance, oh 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 E doggy 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 dance, oh 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 E doggy 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 dance, oh 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 Vorrei dormire anch'io come un cane insieme a te E doggy 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 dance, oh 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 E doggy 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 dance, oh 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 E doggy 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 dance, oh 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 Vorrei che mi trattassi come un cane pure a me Genio e Pierrot per aprire questa puntata del martedì di Un Mondo di Auguri Buongiorno, buona giornata, buon pranzo a tutti gli amici collegati sul canale 74 del digitale terrestre Di Sorriso TV, buongiorno, benvenuti Come sempre questa è una trasmissione con le telefonate in diretta Quindi apriamo le danze, il centralino è libero, il numero è questo Il contatto per chiamarci alla diretta è lo 0 4 2 3 7 3 6 6 7 4 Sino alle 13 abbiamo la possibilità di inserire nella scaletta dei video che voi ci richiedete Perché appunto la scaletta quando non ci sono ospiti naturalmente la fate voi con le vostre richieste Se volete potete mandarci anche dei messaggi Whatsapp Ricordiamo il numero perché lo vedete anche in alto ma io lo ricordo lo stesso 393 7 3 6 6 8 8 8 per chi vuole scriverci con lo smartphone, col telefonino e mandarci naturalmente i messaggi Se avete compleanni o ricorrenze varie Siamo entrati nel mese di dicembre, meno 22 e sarà Natale Insomma speriamo che da qui ai prossimi giorni vada tutto bene Che il tempo sia naturalmente favorevole anche se avete sentito arriverà il gran freddo nei prossimi giorni La sciabolata artica quindi mi raccomando cerchiamo di non ammalarci perché l'influenza Già ci sono i ceppi di influenza sparsi in giro e quindi approfittiamone per salutare le persone che sono a casa Ammalate che hanno l'influenza, un po' di malessere, mali di stagione Sono veramente tante anche quest'anno come sempre quando inizia la stagione fredda Regia 0423 736674 se volete chiamarci in diretta Abbiamo, grazie regia, il centralone che è libero E in attesa delle vostre chiamate andiamo con l'accontentare una nostra ascoltatrice Che ci ha mandato un messaggio e vuole sentire una bella canzone di Rita dal mare la danza del sole Io quindi direi di procedere con Rita dal mare la danza del sole Prego Buonasera a tutti E la luce di una speranza Le parole di una poesia E la musica di una danza E negli occhi quanta allegria Guarda in cielo mille aquiloni Che col vanto un po' di magia Vanno danza in cerca del sole La nostra Elisa Mani che si uniscono e poi Per voi Elisa Che disegnano un girotone Buonasera a tutti Dove pace e gioia Dove pace e gioia tra noi Fa girare e vivere il mondo Quelle mani che stringerò Mi daranno forza e calore Darò tutto quello che ho Un sorriso, un raggio di sole Gentilissimi signori e signori Benvenuti questa sera alla grande serata Della festa della zucca La grande tradizione Signorio Sazzano Con tutta l'orchestra questa sera di Rita del mare E dopo vi presento uno ad uno L'orchestra Finchè santo dentro di me Quella luce e quella speranza Tutto quello che vorrà c'è Non avrà nessuna importanza Non avrà nessuna importanza Lascerò le malinconine Chiuse a chiave dentro una stanza Con la musica e le così Le trasformerò in una danza La danza del sole Alla chitarra il nostro Giacomo Il grande maestro Cianchi Al sax e testiere Al cuore dell'orchestra Signori il nostro Alessio alla batteria Al predo penso al basso Il nostro Davide Nardo alla fisarmonica Sento il sole dentro di me E la luce di una speranza Le parole di una poesia E la musica di una danza E negli occhi quant'allegria Guarda in cielo mille apioni Che col vento con magia Fanno danza in cerca del sole Una danza in cerca del sole Cerco il sole Cerco il sole La danza del sole La Rita La Rita del mare La danza del sole Ciao Rita E saluto anche la tua bellissima figliola Spero di rivederti presto qui da noi Negli studi di Sorriso TV Perché spesso abbiamo il piacere di ospitare Anche i vostri beniamini Le orchestre Le cantanti E la Rita è una di queste senz'altro Allora le 12 e 12 di questo martedì È il 3 di dicembre Va tutto bene Ma noi vogliamo sentire da voi Se va veramente tutto bene Quindi 0 4 2 3 7 3 6 6 7 4 Se volete chiamarci in diretta Per fare gli auguri Per salutarci Per richiederci un bel video Salutiamo anche la signora Filomena Che ci ha mandato Whatsapp E che saluta Cristina e Marco Dalla provincia di Padova Quindi un bacio Grazie per essere lì davanti alla televisione Ma sentiamo che abbiamo in diretta adesso Buongiorno 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 come va? Paola Buongiorno Sono da Verona Piacere Sta attenta Dimmi Siccome che è venerdì no? Ho chiesto una canzone di Rossella Ferrari Rossella Ferrari Ma siccome che è andato giù Sì Andato giù no? No Non ho sentito niente Sì E se vedete che sta a causa di Che canzone era amica mia? Ascolta a me Che canzone era? Rossella Ferrari Sì Alle 7 Alle 7 Alle 7 Sì La stiamo cercando? Sì Ok Eccola qua L'abbiamo trovata Io direi regia di mandarla in onda subito Adesso la vedi? Ascolta a me qua Sì Ascolta Sì A Cologna Veneta Che sia la provincia di Verona Certo Adesso è un mercantino di mandolato e mandorei Ma davvero? Quando lo fanno? Sabato e domenica Allora Allora A Cologna Veneta Sabato e domenica prossima C'è un mercatino dove c'è tanto mandorlato buono Perché insomma siete famosi anche per sta roba qui da quelle parti Giusto? Sì 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 Paola Allora E ora mi piace anche i miei nepoti Sì E ora così fallo un po' di spesa È giusto Vai a farti un giro no? È contento anche Mi fioi Esatto Stai bene? Va bene Sento bene Sì sì Sento tutto perfettamente Adesso arriva la canzone Ascoltami Dimmi Auguri di buone feste Sei tu? Eh ma ci sentiamo ancora Va bene Grazie Grazie mille Ciao Un bacione Viva Cologna Veneta Ciao Grazie Ciao Va bene Allora 0 4 2 3 7 3 6 6 7 4 Anche solo per salutarci A noi fa piacere Abbiamo la pubblicità E poi Casanova alle 7 Vai regia Tutti i giorni su Radio Sorriso TV Un mondo di auguri Gli auguri te li facciamo in diretta TV Compleanni, anniversari, onomastici Invia un messaggio al 393 73 66 888 Ho tutte le mani appiccicose Lavale con sapone al miele È emolliente, nutriente, idratante È dolce ma non appiccica Dermalove al miele Il sapone liquido made in Italy Che corteggia la tua pelle Sapone liquido Dermalove Il prodotto da tenere a portata di mano Per una delicata ma profonda azione detergente Dermalove Una linea completa di prodotti per l'igiene della persona Provali sulla tua pelle Li trovi in tutti i negozi sirene blu Dermalove È attraverso la pelle Che si impara l'amore Amici e amiche di Radio Sorriso TV La vedete? È bellissima È la nuova macchina del caffè di Radio Sorriso Non l'avete ancora ordinata? Allora non perdete tempo Perché l'offerta è meravigliosa Direttamente a casa vostra La macchinetta del caffè di Radio Sorriso Più 231 capsule degustazione Il tutto a 57 euro solamente Spese di spedizione comprese Chiamate in orario ufficio Allo 0423 7367 Macchinetta del caffè più 231 capsule A soli 57 euro spese di spedizione comprese Che aspettate? Tutti i giorni su Radio Sorriso TV Un mondo di auguri Gli auguri te li facciamo in diretta TV Compleanni, anniversari, onomastici Invia un messaggio al 393 73 66 888 E dedica un video alla persona da festeggiare O chiamaci in diretta allo 0423 73 66 74 Un mondo di auguri con Paola Cavinato Sul canale 74 del digitale terrestre Per Veneto e Friuli Venezia Giulia Di Radio Sorriso TV La televisione che ti piace di più Stasera alle sette ritorno da te Con tutto il mio cuore e l'amore che c'è Se spunta la luna ci porta fortuna Stasera alle sette da te porterò Quel bacio d'amore che in serbo terrò A farti felice ci proverò Mi troverai così con quello sguardo da bambina Che ogni giorno t'ama più di prima Non dare retta a chi ci ha fatto separare A terra prima o poi dovrà strisciare E ritornerò a casa mia Quando alle sette è l'ora dell'Ave Maria E sentirò quella campana Che nel tramonto rosalieta suonerà Ritornerò e sarò tua Ti prego amore non lasciarmi andare via Attrazzarò ma credo ancora Che il nostro grande amore mai non finirà Stasera alle sette ritorno da te Tu apri le braccia di cuore perché Se spunta la luna ci porta fortuna Stasera alle sette da te io verrò Con tutto l'amore più grande che ho A farti felice ci proverò Ti troverò così con quello sguardo da bambino Che ogni giorno voglio a me vicino Non dare retta a chi ci ha fatto separare A terra prima o poi dovrà strisciare Ritornerò a casa mia Quando alle sette è l'ora dell'Ave Maria E sentirò quella campana Che nel tramonto rosalieta suonerà Ritornerò e sarò tua Ti prego amore non lasciarmi andare via Ma già sarò Ma credo ancora Che il nostro grande amore mai non finirà Ritornerò e sarò tua Ritornerò e sarò tua Per farmi andare via Pazzazzarò Ma credo ancora Che il nostro grande amore mai non finirà Pazzazzarò Ma credo ancora Che il nostro grande amore mai non finirà Ed erano i Casanova Rossella Ferrari Quanto è brava, quanto è bella Con la canzone richiesta dalla nostra ascoltatrice Come ha fatto? Semplicissimo Chiamandolo 0423 736674 Il numero lo vedete anche sovraimpressione Quindi se ve lo dimenticate Noi lo lasciamo sempre fisso sullo schermo 0423 736674 Se volete chiamarci e entrare in diretta Adesso il centralino è libero E voglio parlarvi come facciamo ogni giorno Di un altro prodotto Dermalove Adesso lo vedrete inquadrato Così nei prossimi acquisti che andrete a fare Quando vi servono le cose per il bagno Per la vostra igiene personale Mi raccomando adesso che fa freddo Ve lo dico sempre Per evitare che le mani ci siano le screpolature Nelle vostre mani Usate sempre la crema mani Dermalove La vedete qui inquadrata Al burro di carité e olio di mandorle È veramente una cosa buonissima Per le vostre mani Che resteranno così Sempre profumate Ma anche sempre delicate e morbide Al tatto e soprattutto le riparate Dal freddo, dalle screpolature Quindi deve essere una buona abitudine Dopo che hai lavato le mani O hai fatto la doccia O hai fatto il bagno Date una passatina Usa ogni volta che è necessario La crema mani Dermalove Che vedete qui inquadrata La trovate nei punti vendita Sirene blu Grazie E quindi buoni acquisti A tutti i nostri telespettatori 0423736674 Se volete chiamarci Ed entrare in diretta con noi Ci sono arrivati dei whatsapp Al 3937366888 Che leggo dopo Buongiorno Buongiorno Pronto? Ciao Paola Buongiorno Sono Aladdina Buongiorno Buon martedì Ascolta a me Vorrei per piacere Ascoltare una canzone Di Edmondo Comandini Edmondo Comandini Che titolo ha? Una canzone di Natale Una canzone di Natale Sì la canzone di Natale Che suona lui con la fisica armonica Buon Natale Eh sì Penso sia buon Natale Vedo che c'è Perfetto Augurandola a tutto lo staff Grazie Come sei gentile Manca ancora un po' Però insomma Cerchiamo di passarli bene Sti giorni Perfetto Buon pranzo Buona continuazione Grazie Arrivederci 0423736674 Per entrare in diretta Un mondo di auguri Anche oggi qui Sul canale 74 Di Sorriso TV Pronto chi parla? Pronto Sono Ferruccio Castel di Volevo Buongiorno Ferruccio Come stai? Ciao Bene 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 Ferruccio Era un po' giù domenica Ma mi avete risollevato Ho visto con l'ultima canzone Che avete fatto In chiusura De Ruota Libera Sì E guarda Non so se è di tuo gradimento E desiderio Dedicarla a te quest'oggi Così la sento di nuovo Qual era la canzone Ferruccio? Perché non me la ricordo Eh Paradiso di Sai Io sono partito Grande evento Allora Non ho capito bene Mi ripeti Chi è che la canta Ferruccio? Grande evento Paradiso Il titolo del brano Grande evento Va bene Paradiso Nata da Passinari Ok Guarda Lo stiamo cercando Eccola qua Ho visto che l'abbiamo trovata Paradiso Grande evento È stata quella che mi ha dato Animo Domenica Ma perché Che cosa avevi Domenica Ferruccio? Niente Ero qua un po' L'ostagico Ma da solo Non è venuto Non è venuto a trovarti nessuno? Sì Dopo sono giunti Dopo più Chi è arrivato? Ma sai che si fa Il piccolino Ma senti Chi è venuto a trovarti? Figlio? Nipote? Ah Il figlio E sorella E Sì C'è sempre qualcuno Che viene a fare un diretto Perché tu abiti da solo? Sì Sì E dov'è che abiti? Ferruccio non mi ricordo A Castello di Godego Castello di Godego Eh Ho capito Ferruccio Ferruccio Ne la sono proprio Tutto quel brano Proprio inaspettatamente È arrivato Bene Senti Ferruccio Guarda Volentieri Io vedo che è già in scaletta Quindi porta pazienza Entro le 13 Mandiamo il video Va bene Va bene Tanto io sono qua E sto sempre davanti Tutti le mie giorni Va bene Ferruccio Su col morale Mi raccomando Sì Sì Beh Vale la pena Andare più Perché altrimenti Comunque ti auguro Una buona giornata Grazie Con lo stasso Al regista che è molto gentile Sì E alla prossima Se non disturbo Alla prossima Non disturbi mai Ferruccio Siamo qui Per voi Grazie Ferruccio Bene grazie Finito Buona giornata di nuovo Arrivederci Com'è gentile Ferruccio Abbiamo degli ascoltatori Che sono veramente Molto gentili 0423736674 Allora regia Andiamo con Edmondo Comandini Buon Natale E dopo per la gioia Di Ferruccio Avremo il grande evento Con Paradiso Quindi due richieste Subito uno Pubblicità E poi grande evento A te regia Buon Natale Se Dio ci guarda Dall'immensità Che strana giustizia Se la guerra è un passo E troppi bambini soffrono Senza un perché La neve è un quadro di Natale Ma sotto la neve Si muore Di là dal mare Le immagini alla tv Quegli occhi che non scordi più La guerra continua E gli angeli cadono giù Buon Natale A tutti gli uomini Buon Natale Ai cuori fragili Buon Natale Ai camini che fumano Buon Natale Alle armi che tacciano Buon Natale A tutti gli angeli Buon Natale Qui sotto gli alberi Buon Natale Perché i cuori si uniscano Buon Natale Perché i sogni rinascano L'inverno è una morsa di gelo In questa notte E dorme mio figlio sereno Accanto a me Ma il cuore mi porta più in là Lontano da questa realtà Laggiù dove gli angeli muoiono Senza pietà Buon Natale Buon Natale Buon Natale A tutti gli uomini Buon Natale Buon Natale ai cuori fragili, buon Natale ai camini che fumano, buon Natale alle armi che tracciono, buon Natale a tutti gli angeli, buon Natale qui sotto gli alberi, buon Natale perché i cuori si uniscano, buon Natale perché i sogni rinascano, buon Natale A Treviso fermati all'Albera di Zeus, carne alla griglia, piatti di cucina genuina, le inconfondibili pizze e in più siamo specializzati in cibi senza glutine, certificati dall'AIC, Associazione Italiana Celiachia sale ideali per feste e ricevimenti, ristorante pizzeria L'Albera di Zeus, Preganziol via Terraglio 249 Ciao, sono Elisa, Sorriso TV si arricchisce di un nuovo programma, Piccoli Grandi Sorrisi dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni, ogni domenica dalle 10 alle 11 passeremo un'ora insieme con tanti amici, giochi, divertimento e tante canzoni, preparati pop corn? Se volete prendere parte alla trasmissione, telefonate allo 0423 73 66 67, tutte le domeniche dalle 10 alle 11 su Sorriso TV, vi aspetto con Piccoli Grandi Sorrisi Per chiudere l'anno in bellezza, dona nuova luce ai pavimenti della tua azienda, rivolgiti ad Eureka Dal 1984 Eureka produce macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, fornisce ad aziende di ogni settore ed ogni dimensione spazzatrici, lavasciugapavimento, aspiratori, idropulitrici, detergenti, con consulenze personalizzate e dimostrazioni senza impegno in tutto il Veneto Per cominciare il 2020 dando nuovo lustro alla tua azienda, chiama Eureka 049 94 81 800 Troverai assistenza per gestire al meglio ogni esigenza di pulito 049 94 81 800, chiama subito Eureka, il pulito un passo avanti 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 Ciao, buongiorno Paolo Buona giornata Grazie per averci iscritto Vuole una canzone del signor Cicicondor Va bene? Da dedicare al suo confettino rosa Va bene? Abbiamo letto il messaggio Se riusciamo entro le 13 Mandiamo anche la canzone Se riusciamo Buongiorno Ciao Paola Buongiorno Buongiorno Tutto bene? Sì, sì, tutto bene Oggi ho una bicecca di tacchino E patate di esse Perfetto Chi vuoi salutare? Vuole fare un compleanno Come si chiama? Oliva Roberto Che sta a preganziol Roberto che sta a preganziol Ok Oggi copie gli anni E quanti anni compie? Dio La canapitessa Che va anche all'asilo Ho capito Sì, sì E quindi ci sta guardando Secondo te O glielo diranno stasera? La nonna della bambina Ah, ok Esatto Ho capito Senti Cosa vuoi che dedichiamo a Roberto? Mettiamo anche la rose e rose Va Rosse e rose? Sì Va bene? Perfetto Ti saluto Ti auguro buon pranzo Sì, grazie Con cose capi io Non importa Ciao, ciao Tanti baci Arrivederci Buon pomeriggio cara Grazie 0423736674 Per entrare in diretta con noi Nel frattempo sono passati i messaggi Li avete letti E quindi naturalmente io saluto Tutti gli amici che hanno scritto Ringrazio anche Franco Che mi ha mandato un bel messaggio Grazie Franco Molto gentile Pronto Chi c'è? Pronto? Pronto? Sono pronta Tu sei pronta? Pronto Sono Luigi di Sardegna Sardo di Sardegna Pronto Luigi Buongiorno Benvenuto Luigi Sono qui che seguo moltissimo le vostre trasmissioni Sto seguendo anche in questo momento le vostre canzoni che mandate a richiesta Pertanto mi è venuto Io sono in friuri per esigenze particolari Sì Allora mi è venuto in testa di chiedervi una bella canzone Ma a vostra scelta Quello che ritenete giusto È dedicarla alla mia terra Che sono lontano Luigi Sì Ti sei commosso? È un po' Un po' Da dove sei Luigi? Da che zona della Sardegna? Sono vicino a Trieste A Monfalcone Sì ma tu arrivi dalla Sardegna Alla zona della Sardegna È al sud estremo della Sardegna Vicino a Cagliari Vicino a Cagliari E stai a Monfalcone Adesso in questo momento sono delle esigenze particolari Sui friuli qui a Monfalcone Sì E vi sto seguendo E volevo approfittarvi Per mandare qualche cosa Qualche bella vostra trasmissione Canzone Alla mia Sardegna Dalla quale sono lontano Va bene Luigi Con tutto il cuore Dopo ti dedichiamo Una canzone Anzi Te la dedico adesso I girasoli Con cuore alpino Luigi Va bene? Sì grazie La dedichiamo Alla tua amata terra Che non dimenticherai mai Va bene Luigi? Magari Magari puoi aggiungere Anche alla mia cara moglie Che è in difficoltà Va bene Luigi Mi raccomando Luigi Sì grazie Ciao Luigi Mi sono commosso Eh lo so Lo sento Lo so Ma è bella questa cosa qui Luigi Non ti preoccupare Forza forza Don Sardo Della Sardegna Eh lo so Luigi Luigi ti devo lasciare Grazie 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 Un abbraccio Un abbraccio Grazie Ciao Luigi Grazie Dai che andiamo Allora siamo un po' In velocità Cuore alpino I girassori Che Luigi Dedica alla sua Sardegna A terra tanto amata E lo facciamo anche noi Vai regia Quando al raduro va un alpino Nel suo cuore c'è tanta emozione Guarda al cielo la sua penna nera Mentre spira per il tricolo Cuore alpino Cuore alpino Cuore alpino Tu pensi sempre A tutto il tempo Passato sui punti Cuore alpino Cuore alpino Cuore alpino Tu sai trovare Gli amici sinceri E mi fai sognare Anche se non ha più la divisa Nel suo cuore Vecchio alpino Vecchio alpino Il freddo Tu sai trovare Mi amici sinceri E mi fai sognare E mi fai sognare La musica senza tempo Con te partirò O sole mio Nessun dorma Le canzoni più belle di sempre Nell'emozionante interpretazione del tenore Fiorenzo Boccato Primo tempo Il cd di Fiorenzo Boccato Che ti scalderà il cuore Per averlo Chiama il 366 259 19 91 O invia un messaggio Su Facebook Fiorenzo Boccato Se vuoi l'orchestra Fabio Regginato Nel tuo locale Nella tua festa Nella tua piazza Chiama il numero Che vedi in sovrimpressione Saremo felici di suonare E cantare per voi I nostri clienti Sono uno diverso dall'altro Sono unici Speciali Esclusivi Per questo Per ciascuno di loro Prepariamo una campagna pubblicitaria Su misura Studiata pensando a loro Pensata studiando La loro attività Il loro modo di fare I loro obiettivi Noi siamo fatti così Classe 1 Uguali a nessuno Classe 1 pubblicità Concessionaria esclusiva Di Radio Sorriso TV Telefono 800 651 651 Grandissima promozione Per avere direttamente A casa vostra 300 capsule di caffè Delle tipologie Che preferite Per quanto riguarda La nostra bella macchina Del caffè Di Radio Sorriso Mi raccomando Chiamate adesso 66 euro Spese di spedizione Comprese 0423 7367 Chiamate 0523 6iesta Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.